Il personale in più per l'ufficio della ricostruzione teramana non ci sarà, è ciò che emerge a margine dell'incontro sul patrimonio abitativo pubblico. Marsilio aveva annunciato tre mesi fa di essere riuscito a strappare al governo una nuova ripartizione tra le regioni corpite dal sisma, che prevedeva il 50% di lavoratori in più, ma ad oggi questi non sono arrivati. Il governatore tuttavia ha anche annunciato di aver reperito 85 milioni per gli alloggi popolari. Abbiamo riottenuto e riportato in Abruzzo gli 85 milioni, 86 milioni destinati all'edilizia residenziale pubblica che ci permettono adesso di iniziare i lavori sul patrimonio delle Ater, abbiamo quindi riunito le Ater e i comuni che sono i soggetti attuatori, ho chiesto di avere entro due, massimo tre settimane, un cronoprogramma preciso da presentare ai cittadini, perché i cittadini devono sapere quando potranno rientrare nelle loro case e noi dobbiamo poter controllare il processo di ricostruzione. Ora i soldi sono stati stanziati, le procedure sono chiarite, si tratta adesso di lavorare purtroppo con poco personale. Le palazzine Ater di Collaterrato di Teramo, benché antisismiche, in seguito al terremoto hanno riportato danni per oltre 10 milioni di euro, somma a cui l'Ater ha dichiarato di non avere accesso. Le circa 1200 persone che lì vivevano attendono ancora di sapere quando potranno rientrare in casa. Stiamo affrontando questi argomenti proprio perché innanzitutto ci sono risparmi di risorse per quanto riguarda i contributi di autonoma sistemazione, quindi parimonializzare questi appartamenti, questi edifici che possono diventare un nuovo punto di riferimento per i domiciliati delle Ater e sicuramente andare a ricostruire non soltanto nei comuni di Teramo e di Lago, ma nei rispettivi territori provinciali quelli che sono gli edifici che si è destinati, che si è deciso debbano essere ricostruiti con procedure semplificate, con metodi e con supporti che debbano vedere la regione sempre più vicina al territorio.